In consiglio regionale è stato votato l'ultimo assestamento di bilancio di questo mandato e il gioco di parole è anche tempo di bilanci di questi cinque anni e per quanto riguarda la montagna, come vedete, è quello che è stato fatto dalla Giunta Maroni. Sì, il quinto assestamento di bilancio è appunto il momento per fare un po' il resoconto di quella che è stata la situazione sulla montagna e come è cambiata dal 2012 al 2017. Nel 2012 noi avevamo 51 milioni di euro nel triennio per programmi di sviluppo locale, interventi che sono andati a finanziare tante opere sui territori montani, per 51 milioni di euro appunto. Queste risorse sono diventate nel corso di questi anni un fondo per le cosiddette valli prealpine finanziato con 3 milioni di euro all'anno e grazie ad un emendamento approvato proprio durante l'assestamento di bilancio diventeranno 6 nel 2018 e 6 nel 2019. Comunque stiamo parlando di una differenza da 51 a 15. Così sulla forestazione, gli interventi per la forestazione da 8 milioni a 1 milione e 3. Gli interventi sull'agricoltura di montagna da 4 milioni a 1 milione. Per cui non c'è nessun capitolo del bilancio regionale che è stato tagliato nella misura in cui i fondi alla montagna sono stati tagliati in questi anni. E quindi credo sia giusto che quel milione e 300 mila persone che vive nei territori montani della Lombardia sappia di quanto questa giunta in questi anni abbia fatto una scelta politica molto chiara, cioè privilegiare altri investimenti ma tagliare pesantemente sui territori montani. Però è stato approvato un ordine del giorno che lascia ai territori montani i canoni aggiuntivi derivati dai grandi impianti idroelettrici e si parla di oltre 30 milioni di euro. Beh, anche qui bisogna fare un po' di chiarezza, nel senso che un conto sono i canoni idrici, quindi le tasse che le grandi centrali idroelettriche fino alle piccole derivazioni pagano alla regione ogni anno. 66 milioni di euro di soldi veri che in questi anni sono arrivati dalle diverse province, dalle diverse derivazioni e solo per la provincia di Sondrio sono stati lasciati sul territorio. Per cui di questi 66 milioni di euro una quota tra i 10, 15, poi a seconda degli anni viene lasciata in provincia di Sondrio. Questo trattamento per tutte le altre province non viene garantito, per cui per la nostra provincia e per i nostri territori montani dai canoni idrici prodotti sul nostro territorio non arriva nulla. I canoni aggiuntivi sono soldi in realtà che al momento non esistono, sono risorse che le grandi centrali dovrebbero pagare per il prolungamento delle concessioni in attesa che si facciano le nuove gare, ma che nessuno ha ancora versato e che la stessa regione dice non sappiamo se e quando entreranno in nostro possesso. Per cui al momento parlare di canoni aggiuntivi sul territorio montano significa parlare di zero risorse. La questione vera è perché a Sondrio si è destinata una quantità così alta di risorse e su tutto il resto della montagna invece zero. Io credo che questo tema debba essere affrontato, noi ci riproveremo anche nella prossima seduta di bilancio che sarà l'ultima, ma credo davvero che le risorse derivanti dall'acqua, dallo sfruttamento dell'acqua, possano essere alla base di un fondo strutturale che finanzi le opere, gli investimenti e i servizi sui territori montani.